ciao ragazze ecco che eccoci con l'ultimo video speriamo per quanto riguarda gli anelli pandora ne ho fatti diversi altri credo che sia sono arrivata a quattro video dove davo informazioni su tutti gli anelli che avevo ma andatevelo a vedere i video cercherò di metterli anche sotto le info di taggarli sotto le info ma guardate che anelli che vi ho fatto vedere cioè che gli manca niente bellissimi quindi andatevi a vedere l'altro video e gli altri video sono più di uno e ovviamente queste sono tutte carrellate nel senso io ve li descrivo velocemente senza soffermarmi più di tanto a meno che non c'è qualcosa di particolare allora mi soffermo volentieri però questi qui li tratteremo meglio uno per uno quantomeno insomma cercando di fare più attenzione a tutti i particolari farveli vedere indossati uno alla volta eccetera eccetera anche per far capire come calzano perché per esempio le fasce calzano in un modo e non tutte in un modo quindi insomma con i prossimi video cercherò di far questo ora eravamo rimasti con l'anello farfalla di profilo praticamente stilizzato bellissimo dicevo mi manca il pendente della collana se riuscite ad ad averlo che magari lo volete vendere eccetera eccetera mettetemi qui sotto nei commenti un'info io vi contatto ci metteremo d'accordo perché è bellissimo mi piace tanto e mi manca va bene ragazzi ecco questo è un altro anello questo qui è la corona la coroncina appunto di mia figlia questo sia questo che questo sono di mia figlia sono le coroncine quelle delle principesse per capirci no una differente dall'altra questa un pochino più moderna sempre in zirconia cubica anch'essa in zirconia cubica un pochino più vintage vedete con tutti i grigori le bull come usava un tempo pandoro ma sono recenti questi comunque e ha appunto questo cuore con la zirconia cubica e le tre le tre punte delle o di pandora per capirci poi abbiamo il fiocco ecco questo è un altro anello molto bello il fiocco è veramente veramente molto molto bello che però io non sono riuscita a capire perché pandora ha fatto ciò ha usato la zirconia cubica sia su questa parte del fiocco che su questa e ci sta perché comunque da un certo movimento ma perché metterla qui e qui cioè questo non l'ho capito nel senso quando tu indossi quest'anello qui è talmente largo che va sulle altre dita che queste cose qui ma così vedono è soltanto per fare alzare il prezzo è certo 10 euro ce li risparmiavamo pure qua vabbè scherzavo ovviamente di questo pandora ha fatto anche il il charm che si può utilizzare sui bracciali rigidi sulle catenine è grande è un bel charm grande molto carino poi abbiamo questi due come vi ho detto anche negli altri video spesso e volentieri utilizzo due anelli per fare diciamo una sorta di particolarità sulle mie mani nel senso che uno lo metto al mignolo queste nella fatti specie sono due bellissime marquis in zirconia cubica un po vintage devo dire sono old ovviamente e una ha una misura e una c'è questa misura bellissime anche queste poi ve la farò vedere indossate queste fanno veramente una bellissima bellissima figura sono proprio belle sono piatte non danno fastidio anche toccando il liscio queste ancora si trovano in qualche outlet si trovano le ho viste quindi belle queste mi piacciono tanto ora già siamo quasi a quattro minuti tre minuti e qualcosa io però voglio cercare di farvi vedere loro prima di farvi vedere loro passo velocemente a questi vabbè questi qui sono io li ho messi così ma considerate che uno per l'altro ecco vedete com'è così sono dei delle pietre ovviamente sintetiche colorate che pandora ha utilizzato per guarda che bello sto colore così si vede meglio ecco così si vede meglio sì che quando l'ha utilizzato per le pietre come pietre natali inizialmente aveva fatto queste queste qui come pietre natali vi ricordate no ci sono anche gli orecchini così bellissimi questi sono bellissimi e queste erano con pietre naturali quindi ci sta insomma molto particolari anche se con i gambi molto particolari vedete ci hanno tutte queste bulle insomma il cestino è fatto benissimo poi un giorno entrerò più nel dettaglio su ognuna di loro però questi l'aveva l'aveva tolti e ha deciso di cambiare un po mantenendo il discorso delle pietre natali utilizzando questa tipologia qui che da una parte un pochino più moderna devo dire sta bene perché io spesso volentieri li metto anche tutti e quattro insieme o se no posso metterne due come le pietre per esempio scusate mamma mia come non so benissimo oggi ho la collana quella di vetro per inserire le pietre avete presente e spesso volentieri magari metto questo verde con questo blu e poi indosso i colori dell'anello abbinati insomma faccio queste questi abbinamenti così devo dire molto d'effetto molto carino altrimenti non li avrei comprati mi piacciono tanto ma quando poi ho scoperto queste che prodica fa vabbè adesso ne parliamo un pochino meglio nel dettaglio di queste ho il rosso scuro diciamo il blu verde e questo è quello di ottobre questo qua che è l'unico che ricordo sempre perché ottobre nata mia figlia quindi è l'unico che ricordo aspettate secondo solo ecco ecco vedete com'è è opalescente tipo un rosa che tende un po a lilla un po opalescente molto bello questo qui di questo c'ho anche il 12 pendenti perché di questa linea aveva fatto gli anelli gli orecchini e i pendenti ha fatto tutta la linea molto carini di questi qua i pendenti no non mi sembra proprio di ricordare i pendenti di questo anzi no sono sicura che non li ha fatti di questo invece di questo aveva fatto anche i pendenti e ultimamente mi sono dimenticata di farle vedere a 17 euro e 50 sono riuscita a prendere il pen a che di queste ci sono anche le petit vedete ho detto prima già mai ero dimenticata la memoria mi tradisce continuamente di queste qui o l'altro giorno ho preso a 17 euro e 50 perché stavano in sconto anche sul sito c'era quello azzurro molto carino in sconto ma non l'ho preso azzurro l'ho preso giallo giallo molto tipo giallo così molto molto forte molto acceso molto caldo ecco tipo questo genere di giallo mi piaceva perché voglio metterlo sull'altro bracciale che vi devo far vedere con le murrine quelle di legno vabbè poi vi faccio vedere ho delle murrine di legno di diversa foggia e di diverso colore e appunto volevo provare a vedere quel giallo come ci stava se non ci sta bene credo che lo posso lo posso inserire sul sull'altro bracciale shine che voglio fare secondo me ci sta bene quello lì dorato così comunque torniamo a noi detto ciò voglio passare alle pietre natali queste che mi piacciono da matti da matti allora queste qui ragazze quello che vi volevo dire negli altri video che ho accennato solamente invece sono pietre naturali ovviamente old molto affascinanti calzano discretamente nel senso che un pochino certo mangiano perché tutte queste bulle poi insomma un pochino mangiano ma non a mezza misura ma sono belle cioè guardate guardate la luce anche soltanto la luce poi di questo devo per forza fare un video ma guardate cos'è tutte pietre natura questa è ametista cioè pietra di luna mi ricordo adesso ve le dico un pochino più nel dettaglio perché sennò veramente ecco lapislazuli guardate lapislazuli lo vedete questo è turchese qua il socitrino se non è roggiata no vabbè ma sono bellissime allora io dico no se volete fare un regalo per san valentino io parlo ai ragazzi eh o sennò magari alle sorelle dei ragazzi così magari istruite un po anche i vostri fratelli se volete fare un regalo di san valentino che magari non siete convinti della nuova collezione o delle solite cose con i cuori capito eccetera eccetera andate su qualcosa di particolare che sicuramente piace piacerà e che ha un valore anche proprio a livello del mese no queste sono pietre del mese c'è il mese di gennaio c'è l'altro mese dove era che non me lo ricordo più vabbè insomma tutti i mesi adesso faccio in un minuto perché voglio non perderci perderci troppo vi faccio vedere in un minuto i mesi quali sono io come vedete me ne mancano due pazienza mi mancano due mesi che devo fare allora aspettate aspettate eccoci è trovati allora abbiamo gennaio il granato allora questa la prima rossa qui questa qui granato è gennaio il mio mese guardate che guardate che luce che dà è in cabochon sono tutte in cabochon il taglio delle pietre quindi non è sfaccettata così però cioè è più luminosa questa di questa guardate cos'è bellissima granato poi abbiamo l'ametista di febbraio l'ametista eccola qua cioè questa questa qui ma che è ma guarda cos'è bellissima questo è mese di febbraio quindi se avete la fidanzata che è febbraio ve la trovate qua poi abbiamo marzo con l'acquamarina allora eccolo qui questo è marzo l'acquamarina ovviamente variano a seconda qui sembra forse no no si vede che acquamarina bellissima guardate è questo azzurrino delicato marzo poi abbiamo questa che è aprile cristallo di rocca questo è cristallo di rocca quindi non è pietra di luna è cristallo di rocca me l'ho confusa guarda che luce che dà pazzesca poi di corsa di corsa e già siamo 11 minuti questa verde è maggio crisoprasio crisoprasio non è giada è crisoprasio cioè sembra veramente fluorescente ma è pietra naturale crisoprasio guardate cosa è bellissima non danno fastidio anche se sono sporgenti anzi si portano molto molto bene poi abbiamo abbiamo detto che abbiamo detto maggio giugno e pietra di luna ma non ce l'ho qui ecco manca giugno che la pietra di luna luglio che è corniola quell'arancione ecco questa qui è la corniola e perché è nata a luglio ora che bella bellissima poi abbiamo agosto che non ho è un olivina olivina è un verde rispetto a questo un pochino più chiaro che non ce l'ho però è di agosto e un pochino più chiaro un pochino più sul giallo questo è un pochino più sul bianco vedete e si chiama olivina poi abbiamo invece il lapislazuli che è settembre guardatelo guardatelo questi vediamo proprio vedete l'intarsi del dell'oro questo è settembre poi giro la pagina giro la pagina e abbiamo ottobre opale rosa l'opale rosa eccolo vedete guardate questo palero sa parte che cabochon però vedete che è abbastanza simile ma comunque si vede che è diverso rispetto all'opale rosa questo qua guardate ecco che vi ho fatto vedere nell'altro video questo qui opale rosa abbiamo quindi mese di ottobre gli altri due mesi ovviamente la va da sé che uno è citrino giallo e l'altro è turchese quindi il citrino giallo eccolo qui guardate mamma mia questo è novembre novembre bellissimo questo è stupendo ragazzi cioè guardate mi illumina il dito guardate il dito si illumina le mie follie lasciate stare però è bellissimo no questo è novembre per le nate a novembre e poi abbiamo dicembre che è turchese questa non è pasta di turchese ma è turchese proprio quindi può molto variare può diventare anche la pietra stessa può diventare sul verdone sul verdino scusa sul verdone sul verdino o comunque da avere un po un cambiamento nel tempo ma è normale nelle pietre naturali anzi è sintomo di pietra naturale ecco qua ragazzi io ho finito con la mia carrellata di anelli adesso dovrò bere un altro bicchierone d'acqua perché altrimenti qua muoio guarda ve li metto tutti così chissà se si vedono non si vedono per niente ecco forse così si vedono meglio comunque ve li metto così almeno ecco così diciamo su su dai che ci siamo che mi lamento ecco ci siamo ditemi che ci siamo questo lo giro perché se non si vede proprio così è meglio sono carini sono molto carini io vi ringrazio e vi saluto e poi scrivetemi qui sotto nei commenti però per qualsiasi informazione qualsiasi cosa vogliate chiedermi però se avete necessità di vedere prima uno anziché l'altro scrivetemelo perché io poi quando faccio i video di uno per uno almeno così do delle precedenze capito saluto teresa è una ragazza che mi segue l'illiziana un'altra ragazza che mi segue io seguo lei e un bacio a tutte ragazze eccolo qui a presto ciao